Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare della vertenza FIMER. In meno di 24 ore il Tribunale ha accolto la richiesta della società archiviando così il procedimento per la revoca del concordato. È arrivato a distanza di poche ore dalla chiusura dell'udienza l'accoglimento da parte del Tribunale di Arezzo delle richieste dei legali FIMER. Si scongiura così la revoca del concordato dopo il sì all'offerta del fondo afferente a McLaren. Questo era l'ultimo tassello per una positiva prosecuzione dell'attività. L'avvertenza sindacale durava da circa un anno e mezzo. FIMER, azienda che opera nel settore della transizione energetica, ha due stabilimenti, uno a Terranova Bracciolini e l'altro a Vimercate. Nel Brianzolo, in tutto circa 400 dipendenti impiegati che fino a ieri vedevano il loro futuro compromesso. Adesso invece le prospettive sono ben diverse. Oggi sono anche partiti bonifici per gli stipendi di aprile precedentemente sospesi. La decisione del Tribunale a questo punto ufficializza quanto chiesto a ieri anche dal pubblico ministero. Viste le novità intercorse, va avanti dunque la procedura del concordato preventivo in continuità. A fare la differenza proprio la presenza di McLaren con il ruolo di investitore e con l'interessamento per rilevare la proprietà. Oggi a Figline Valdarno invece è stato il giorno dell'ultimo saluto a Vanessa Bonatti, la cinquantenne di Vaggio, travolta da un'auto lo scorso sabato di fronte alla sua abitazione. I funerali si sono svolti nella chiesa della collegiata, tante le persone che oggi si sono strette attorno alla dolore dei familiari. La tragedia aveva scosso l'intera comunità, Vanessa era stata travolta ed uccisa da una macchina pirata mentre era fuori con il suo cane. Il responsabile risultato poi positivo all'alcol test era stato rintracciato poco dopo dai carabinieri. E' stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale pluriaggravato. Ed adesso parliamo di un altro terribile incidente stradale, quello di Vitiano, nel quale ha perso la vita Federica Canneti. La procura ha inviato l'avviso di chiusura indagini per il 24enne che era alla guida, l'accusa è quella di omicidio stradale aggravato. Omicidio stradale aggravato per la velocità eccessiva. Questa è la pesantissima accusa adesso formalizzata dalla procura di Arezzo per il 24enne che si trovava alla guida dell'auto su cui viaggiava Federica Canneti, la giovane di Castiglion-Fiorentino morta nel drammatico impatto a soli 22 anni. L'accusa è pesantissima quanto rispettosa della legge. E' chiaro che con questa aggravante la pena non parte da due ma parte da cinque anni, minimo. Era la notte del 7 ottobre 2022. L'auto, una Kia sul cui sedile posteriore viaggiava la ragazza, aveva raggiunto un picco di 137 chilometri orali. Sulla punto dell'impatto, una folle velocità su questo tratto della strada regionale 71 a Vitiano dove il limite è 50. E' superiore al doppio, nel senso che lì c'era un limite di 50. Il PM Emanuela Greco ha chiuso l'inchiesta ed inviato l'avviso di conclusione delle indagini al giovane. Potrebbe scegliere di patteggiare una pena ritenuta per loro, per la difesa giusta. Federica sognava di andare in Africa a fare l'ostetrica, un sogno spezzato quella drammatica notte. La famiglia ha raccolto i fondi che serviranno per dare concretezza ai progetti incompiuti della giovane, grazie ad un premio studio intitolato alla sua memoria. Sarà utile per una studentessa di ostetricia dell'Università di Siena che potrà andare in questo caso in Etiopia a dare una mano all'Africa che ne ha tanto bisogno. I Rissa invece sono tornati ad occuparsi del delitto di San Polo per altri accertamenti. Sotto la lente di ingrandimento dei Rissa le tracce di vernice prelevate dalla ruspa di Gesim Dodoli e dalle auto in sosta della famiglia Mugnai che si trovavano nel piazzale della casa di San Polo, teatro del delitto che si è consumato nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Quella sera Mugnai e i suoi familiari si trovavano a cena quando vennero aggrediti da Gesim Dodoli che alla guida del suo escavatore cominciò a colpire l'abitazione con la benna, distruggendone l'ingresso e danneggiando finestra e tetto. Mugnai sparò con la carabina, uccidendolo. Le risultanze delle analisi dei Rissa dovranno confermare quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti, ossia che prima di colpire con la benna la casa di Mugnai, il vicino aveva attaccato le auto. Al fabbro che si trova in stato di libertà, il jeep Giulia Soldini aveva riconosciuto la legittima difesa. Adesso la procura di Arezzo attende anche il riscontro della perizia balistica sulle traiettorie dei colpi e delle distanze, la relazione dell'autopsia e l'accertamento sull'edificio svolto dall'ingegnere Fabio Canè con l'ingegnere Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo e consulente di Mugnai. La struttura infine è stata dissequestrata e restituita alla famiglia. Domani mattina invece sarà il giorno del processo di appello per il crack di Banca Etruria. A Firenze una nuova partita giudiziaria sulla presunta bancarotta fraudolenta contestata da ex dirigenti e funzionari dall'Istituto di Credito Aretino. Il 1 ottobre 2021, alla termine di un lungo iter processuale, il Tribunale di Arezzo aveva sentenziato una raffica di assoluzioni. Domani il Procuratore Generale o la Corte potrebbero chiedere di rinnovare parzialmente l'istruttoria dibattimentale. E adesso ci spostiamo in Valdichiana, a Cortona, dove i carabinieri hanno denunciato per danneggiamento, getto pericoloso di cose e tentativo di lesioni e utilizzo ingiustificato di armi ad aria compressa o elettriche. Un giovane residente nella Cortonese, individuato come il presunto autore di quanto accaduto lo scorso 26 aprile a Camucia, quando alcuni passanti erano stati colpiti in una via del centro da palline di ferro sparate probabilmente da un'arma giocattolo. Nessun aveva riportato lesioni, ma era stata danneggiata la vetrina di un negozio di occhiali. Il titolare aveva così sporto denuncia ed oggi i carabinieri hanno rintracciato il responsabile ed è stata anche sequestrata l'arma giocattolo utilizzata. La Polizia di Stato, invece sempre in Valdichiana, ha rintracciato una 57enne che doveva scontare ancora un anno, 8 mesi e 25 giorni di reclusione per un cumulo di penne relativo ai reati di lesioni personali, danneggiamento e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato controllato alla stazione di Terromtore dagli accertamenti e il risultato che era colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze. Terminati gli atti, è stato così portato nel carcere a Retino di San Benedetto. E adesso parliamo ancora della morte di Francesco Sandrelli, l'artista cortonese bruciato, vivo sul grande raccordo anulare di Roma dopo l'incendio dell'auto sulla quale viaggiava. L'autore del video adesso vuol chiedere scusa alla sua famiglia, il 53enne era morto dopo mesi di agonia. Il responsabile di aver girato quel video che era stato poi pubblicato sui social è iscritto nel registro degli indagati della Procura di Roma per il reato di omissione di soccorso. Voltiamo pagina per parlare adesso della bretella che sarà propedeutica alla realizzazione della quattro corsie della E78. Sono 471 le particelle catastali inserite nel progetto dal commissario straordinario e che potrebbero essere colpite da esproprio. Tra queste anche una proprietà che era stata appena ristrutturata. E da qui passerà la strada? Esatto, da qui qui. Terreni, fabbricati, aziende, campi, porzioni di vigneti ma anche proprietà appena ristrutturate come questa tutte nella lista appena pubblicata da ANAS. È infatti partito il procedimento di esproprio lungo il tracciato della E78 nello specifico nella bretella che va da Sanzeno verso le Poggiola tagliando campi e abitati. La bretella che dovrà essere costruita è propedeutica al completamento del tratto aretino della Due Mari. L'elenco pubblicato da ANAS conta decine e decine di proprietari tra cui figurano anche il comune di Arezzo, la ferrovia e la parrocchia di San Marco la Sella ma anche aziende dell'area industriale di Sanzeno e cittadini come in questo caso una proprietà appena ristrutturata sulle colline di Sanzeno a pochi passi dalla linea dell'alta velocità. Proprio qui, secondo il progetto, è previsto il passaggio del tracciato e dunque potrebbe essere colpita dall'esproprio. Il proprietario si è già rivolto ad un legale per comprendere il da farsi. Sempre nella stessa zona c'è chi invece avrebbe l'accesso dal cancello di case interdetto e chi la grande strada fuori dalla porta dell'abitazione ad oggi immersa nel verde. Sul tema della bretelle, cittadini interessati dall'esproprio sempre più preoccupati per l'accelerazione della procedura avevano già preso posizione. La questione era arrivata anche in Consiglio Comunale. Preoccupano le dimensioni di questa strada sia in altezza che in ampiezza per un'opera tra l'altro che è provvisoria perché è preliminare alla realizzazione dello snodo dell'ormo della Due Mari poi rimarrà pressoché poco utilizzata, crediamo. Ecco, anche perché voi avete scelto di abitare sulle colline di Sanzeno in mezzo al verde, quest'opera ovviamente comporta un importante disagio. Saremo nel bosco in teoria, sia dietro casa che davanti casa c'è il vincolo del bosco, dell'area boschiva e questa strada ci passa tranquillamente nel mezzo distruggendo tutto e comprendo completamente la vista. Chiedete un intervento delle istituzioni finché c'è ancora tempo? Eh sì, finché c'è ancora tempo per determinare il percorso migliore perché erano tre percorsi alternativi e è stato scelto questo percorso. Sanità e fondi PNRR sono queste le sfide della seconda parte del mandato del governatore Gianni. È la Sala dei Grandi del Palazzo della provincia di Arezzo ad ospitare la relazione del Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni relazione di metà mandato nel territorio aretino. Quella di Arezzo è la quarta tappa del tour, prima meta, l'occasione per fare il punto su quanto realizzato dall'amministrazione regionale a metà mandato a due anni e mezzo dall'avvio della legislatura e guardare avanti. I primi due anni e mezzo di mandato sono stati caratterizzati dalle emergenze quindi abbiamo dovuto con un'espressione calcistica giocare in difesa emergenza Covid, emergenza economica derivante dagli effetti della guerra e quindi innalzamento dei costi dell'energia e delle materie prime. Ora dobbiamo agire per realizzare quei progetti che complessivamente noi abbiamo davanti. Due i binari principali, sanità e fondi del PNRR. Abbiamo concentrato con i manager ASL per ASL l'attenzione su due aspetti le liste d'attesa e i pronti soccorsi e abbiamo bisogno che lo Stato liberi le professioni ovvero abbiamo bisogno di infermieri, di medici, non c'è altro settore come quello in cui le graduatorie si esauriscono e quindi è necessario liberare quello che è il numero chiuso a medicina, è necessario concentrare risorse che lo Stato deve darci perché se vogliamo mantenere della sanità un pregio e un orgoglio tutto italiano dobbiamo avere le risorse. Sul tema infrastrutture Gianni si è espresso anche sulla stazione dell'alta velocità media Etruria e soprattutto sulla collocazione dell'eventuale stazione. Io sono assolutamente convinto che occorre una stazione media Etruria se volete come la penso da uomo politico ritengo che sia ragionevole la stazione di Rigutino perché offre l'interscambio fra linea lente e linea veloce offre le condizioni di dare risposta nell'area sud della Toscana al luogo dove è concentrata più popolazione che è appunto questa con il ministro Giovannini è stato ripreso dall'attuale ministro però abbiamo insediato con la convergenza di Umbria e Toscana un tavolo tecnico. Parliamo adesso di Estra dopo l'assoluzione nel processo Coingas l'Assemblea dei Socii ha scelto nuovamente Francesco Macri. Grazie a Giovanni Grazzini è bentornato a Francesco Macri così Alessandro Ghinelli sindaco di Arezzo in una nota ufficiale dà il suo personale bentornato in Estra a Francesco Macri che adesso rappresenterà Arezzo nel CDA. L'ex presidente della Multi Utility era stato sospeso dall'incarico dopo la delibera ANAC e soprattutto in attesa della fine del processo sul caso Coingas dal quale Macri è stato assolto. È stato un percorso molto duro soprattutto perché nel mio caso ho contrassegnato da riservo, silenzio e rispetto per l'attività della magistratura e dei giudici. Ho visto un po' dall'esterno tutto il processo durante tutto il percorso si è ridotto all'osso, a poca cosa il mio coinvolgimento e la conclusione è stata come doveva essere positiva quindi assoluzione assolutamente piena. Io ho fatto anche, credo bene, il mio lavoro in una fase diversa e quindi sono molto contento, soddisfatto e questa soluzione comunque non ti ripaga fino in fondo dei danni subiti. Allora, questo rientro in Estra, ovviamente non con la carica in questo caso da presidente ma come rappresentante della comunità retina. Per adesso si parla di una designazione. Poi è chiaro che il socio Aretino, che ringrazio sia nella componente amministrativa dei sindaci che hanno contribuito a designarmi primis Alessandro Ghinelli ma tutti gli altri del centro-destra e ringrazio anche per l'astenzione comunque benevola dei sindaci rappresentanti dell'area del centro-sinistra. È un ruolo importante, sono designato, chiaramente Arezzo andrà al tavolo dei soci per richiedere nuovamente la presidenza che è il ruolo che sicuramente ci compete perché deve ritornare Arezzo a contare in una grande azienda che ha sicuramente bisogno di essere rilanciata che ha vissuto un periodo particolarmente complicato in un contesto energetico e sociale che è pesato moltissimo alle famiglie e quindi c'è tanto lavoro da fare per rilanciare l'azienda, per rilanciarla nel territorio soprattutto sul rinnovato rapporto di prossimità ai territori sostenendo politiche culturali, sociali, sportive ma soprattutto i cittadini che non possono più permettersi queste bollette così elevate. I comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno hanno firmato il coordinamento per la creazione di una comunità energetica rinnovabile. Dopo aver individuato nove aree disponibili, due amministrazioni si impegnano adesso in un accordo che darà vita ad uno strumento utile alle due comunità che ne vedranno i risultati a partire dal sensibile abbassamento dei costi energetici. Dopo la Costituzione i cittadini d'attività saranno chiamati a porre in essere una manifestazione di interesse al fine di aderire alla stessa oppure di ottenerne benefici. Torniamo adesso ad Arezzo, asili nidi aperti anche nel mese di luglio. Ad annunciarlo è il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, che conferma il rinnovo del progetto gioco quando è dedicato alla fascia 03 per il periodo compreso tra il 3 e il 28 luglio 2023. La struttura comunale individuata è quella della Nido Peter Pan di Salleo che potrà ospitare sino a 55 piccolini. Al Peter Pan si affiancano poi con una disponibilità complessiva di altri 50 posti il Nido Sitorni e Bagnoro gestiti rispettivamente da Coenè e da Progetto 5. All'ospedale San Donato di Arezzo invece è arrivato un robot in grado di preparare i farmaci ai malati oncologici. Si tratta di una donazione del Calcit. Si chiama Poteca PS e aiuterà farmacisti ospedalieri e operatori sanitari ad allestire nella più completa sicurezza i farmaci antiblastici da somministrare ai pazienti oncologici in dei hospital. Va a integrare il robot che l'associazione aveva già donato nel 2016 sempre alla farmacia ospedaliera che consente preparazioni automatizzate di questo tipo di farmaci. Il 5 maggio invece si celebra come ogni anno la giornata internazionale dell'ostetrica accompagnata da uno slogan che ne identifica la tematica prescelta. Quest'anno è quella di ancora insieme le cure ostetriche dalle evidenze alla realtà. In programma in tutti i punti nascita dell'Azio Toscano a sud-est e dunque anche in quelli a retini degli incontri aperte tutta la cittadinanza con la presenza del personale ostetrico e dei consultori presenti poi anche le mamme alla pari. Voltiamo pagina in centro sotto i portici. Questo fine settimana sabato 6 maggio torna mercatale dalle 9 alle 19 in concomitanza con la fiera antiquaria 10 standard di prodotti a chilometro zero. La nuova edizione vede tra i protagonisti le prelibatezze stagionali ma anche una variegata offerta del settore caseario. C'è poi anche una novità vista anche l'ormai prossima apertura in via Crispi ossia la presenza dei piatti pronti e dei sughi della conserveria ragazzi speciali Ollus di Castiglione a Fiorentino. E adesso passiamo alla pagina dello sport. Ieri sera la mescola basket Arezzo è scesa nuovamente sul parquet del Palaestra per la seconda gara dei play-off portando a casa una vittoria che sarà ricordata per molto tempo. Una serie è vetata ai deboli di cuore quella tra la mescola basket Arezzo e Basketball Club Lucca. Dopo il supplementare di gara 1 era difficile prevedere una serata ancora più emozionante ma il parquet del Pala Sportestra ha regalato un'altra partita da ricordare per lungo tempo. Questa volta l'amene partita sprombattuto cercando di cogliere di sorpresa Lucca. Decisa la reazione ospite che con un controparziale di 10 a 0 tocca più 9. Un libro di fornare ed un canestro sullo scadere di Giommetti poi rendono meno ampio il vantaggio della squadra in trasferta all'intervallo. A rientro dagli spogliatoi l'Amen non riesce a cambiare passo. Un canestro da tre tiri di un infallibile Burgalassi vale il massimo vantaggio per Lucca sul 54 a 37. La SBA fatica a ritrovare fiducia ma nonostante questo gli Amaranto recuperano qualche punto. Alla terza sirena il punteggio è fissato da un canestro di russo sul 52 a 61. L'ultimo quarto vede l'Amen rigenerata nell'energia grazie ad una spinta calorosa del pubblico del Palace Portestra. Gli ultimi secondi sono infine da vivere tutti d'un fiato. Dopo il time-out gli Amaranto rimettono nella metacampo offensive. Peluchini insegna subito tre punti. Gli ospiti così hanno il pallone per chiudere la partita. Nel debbio attacca lo stesso Peluchini che non cede di un centimetro costringendo il giocatore Lucchese ad una foratura che colpisce il tabellone. Il rimbalzo è di Fornara che vuole prenderci l'ultimo tiro. Supra la metacampo e attacca Tempestini con un tiro da tre che finisce in fondo alla retina facendo esultare il pubblico a Amaranto. Il 2-0 strappato nella serie con le due vittorie al Palace Portestra non deve far abbassare adesso la guardia ai ragazzi di coach evangelisti che hanno ancora bisogno di un successo per passare il turno. Gara 3 andrà in scena domenica alle 18 al Palatagliate di Lucca. Arresta e tiro di del debbio. Il pallone va. Fornara riconquista il rimbalzo. Ora spinge. 10 secondi alla fine. 8, 7, 6. Fornara si incaricherà del tiro decisivo. Prova lo stand back da tre. L'ora linda alla fine. Quando manca un secondo alla fine. È il canestro della vittoria. Siamo stati bravi perché loro come al solito approcciano la partita in maniera davvero, davvero, come dire, sono bravissimi davvero. Noi dobbiamo cercare di soffrire di meno i primi quarti. Primo, secondo, quarto dobbiamo cercare di soffrirlo di meno. Il terzo quarto abbiamo avuto un blackout totale. Però, dato che siamo una gran squadra, siamo rimasti compatti con la difesa e dalla difesa, dalla difesa, siamo riusciti a tirar fuori poi quello che è un tiro che alla fine poteva entrare e poteva uscire. Però, essere meno 15, meno 14 per quasi tutta la partita parlando del secondo tempo in poi e poi comunque c'è da recuperarle, è stata una gran cosa. Bisogna dire, come hai detto te, quel tiro potevi segnarlo come no, ma anche segnare un canestro simile e prendersi una certa importanza non è da tutti, soprattutto. Certo, certo, sicuramente. Però, come dire, dobbiamo star tutti pronti mentalmente. Questa volta l'ho preso io, la prossima volta lo prenderà un altro mio compagno. Sono molto contento che sia entrato, ovviamente, come tutti. È stato bello, è stato molto bello. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Vi ringrazio per l'attenzione.